Dottor Rattelara, che impressione ha avuto utilizzando per la prima volta il protocollo trace and place? Io non avendo il combino in studio trovo questo tipo di approccio estremamente pratico perché basta una combina del paziente prefatta e la sistematica chirurgica di controllo è già pronta. Il livello di precisione che ha potuto verificare? Valido. Perfetto, grazie, buon lavoro. Grazie. 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 Grazie.